Questo è un libro che nasce dal lavoro e dalla competenza di due persone, che tra l'altro le vedo in linea, quindi le voglio anche salutare, Sean Field e Jacques Dalaran. Sean è il primo, penso io, ad essersi interessato in maniera scientifica di Isabella di Francia, la sorella di Re Luigi. Come lui stesso ricorda nell'introduzione, Sean scrive, la principessa, che è frutto della sua tesi di dottorato discussa nel 2002. Sono dunque 20 anni, più di 20 anni, che Sean studia questa donna straordinaria. Nella sua introduzione a questo volume, Sean ha condensato in 60 pagine il profilo biografico di Isabella. Di fatto, possiamo dire che è ciò che di meglio si possa avere in italiano su questa donna. Ma la seconda persona che ha permesso la pubblicazione di questo volume è Jacques Dalaran, il quale, oltre al grande storico che tutti conosciamo, è anche uno straordinario promotore di lavori collettivi. Tutti conoscono i volumi sulle fonti francescane in francese, pubblicati nel 2010, a cui è seguito il volume sulle fonti clariane in francese del 2013. A quest'ultimo ho avuto l'onore di partecipare anch'io, vedo qui che ci sta Alfonso Marini, che ha partecipato anche lui, e lo saluto. E poi da lì è partita l'iniziativa per pubblicare le fonti liturgiche francescane, con un gruppo di lavoro coordinato ancora da Jacques. Di nuovo ho avuto il piacere di partecipare anch'io, insieme a Timothy Johnson e Filippo Sedda. Nel caso di Isabella di Francia, Jacques ha proposto a Jean di pubblicare in Francia, prima di tutto, la raccolta di fonti che la riguardavano. Il modello era sempre quello delle fonti francescane e clariane, con una specificità in più. Isabella, in quanto sorella del più famoso re di Francia del XIII secolo, San Luigi, avrebbe intercettato un interesse che andava ben al di là dello stretto numero di studiosi interessati alla geografia e alla spiritualità francescana. Ad un certo punto, Jacques mi ha chiesto se mi sembrava interessante pensare ad una traduzione italiana del volume uscito in francese. La cosa mi è sembrata molto interessante e insieme abbiamo pensato di rivolgerci a Luciano Bertazzo, perché oltre ad essere un grande studioso e un caro amico, aveva condiviso con noi l'avventura delle fonti liturgiche francescane. E' dunque Luciano, la terza persona, che deve essere ringraziata per la pubblicazione di questo volume. Io invece mi sono preso l'onere della traduzione, che si è rivelata un'esperienza intellettuale molto stimolante, perché non si trattava soltanto di tradurre dal francese, ma di rivedere la traduzione italiana sugli originali in latino e in antico francese, seguendo le preziose indicazioni fornite da Jacques già per le fonti francescane in francese. Indicazioni che lui stesso ha riassunto nella sua prefazione. Abbiamo optato, sono parole sue, per una traduzione letterale delle fonti. Per quanto possibile, una parola in lingua originale è resa coerentemente dalla stessa parola in italiano. Le costruzioni, i giri di parole, i tempi verbali sono rispettati nella misura in cui non danneggiano la leggibilità della fonte tradotta. La tipologia specifica di ciascuno dei testi, i livelli di cultura dei diversi autori, sono così ripristinati. Fin qui la citazione di Jacques. Ogni traduzione è un'esperienza molto interessante. Vi vorrei fare solo un esempio, tanto per farvi entrare un po' nel gusto di questo lavoro. È molto istruttivo vedere l'uso del tu e del voi, anzitutto nelle lettere. Quello che in francese si dice vuoi, è interessante perché per esempio Gilberto di Tournet, che è un grande teologo, si rivolge sempre rispettosamente con il voi a Isabella e così normalmente in tutti i contesti formali, ma questo ce lo si aspettava. L'unico, l'unico che sovranamente può dare del tu a tutti è il Papa. Il quale dà del tu anche al re di Francia, perché lui se lo può permettere. È molto interessante ed è interessante anche perché il Papa considera tutti come dei suoi figliuoli naturalmente, quindi può parlare in questo modo a tutti. È interessante che poi nella biografia, nella vita di Isabella, di Agnese e d'Arcourt, si vede che i due, i due fratelli, il re e la principessa, si danno del voi tra di loro. Questo è molto carino come fatto e mi pare molto interessante perché questa abitudine al se vuoi è molto tipica dell'aristocrazia francese. Voi sapete forse per caso che lo you inglese nasce qui. Nasce quando la gente del popolo in Gran Bretagna, ascoltando i nobili francofoni normanni che si davano del voi, li imitano nella loro lingua e inventano questo you, che in realtà era una seconda persona plurale all'inizio, ma che diventa la persona per colloquiare amichevolmente. È interessante perché in realtà la storia si intreccia per mille storie. Va bene, ma resta da spiegare la ragione e l'interesse della traduzione italiana di una raccolta di fonti relative a una donna francese del XIII secolo. Una prima risposta nasce dalla constatazione dei contatti culturali e religiosi che si sono tessuti in quegli anni, per esempio tra Chiara d'Assisi, Elisabetta d'Ungheria, Isabella di Francia. Per ricostruire quello che Herbert Grunman chiamava il movimento religioso femminile, è indispensabile mettere a fuoco figure importanti come quella di Isabella. Questi contatti hanno avuto un'influenza più profonda di quanto fin qui immaginato. La regola di Lochon è stata adottata anche in Italia, come sa bene Alexa Bianchini, che ho capito, ci ascolta online. È stata adottata in diverse comunità femminili. Ma vi è, a mio avviso, un particolare che rende questa raccolta ancora più interessante anche per il pubblico italiano. Ed è proprio questa vita della beata Isabella di Francia scritta da Agnese di Harcourt. Come viene spiegato da Sean Field, si tratta della prima biografia di una donna in lingua francese scritta da una donna. Lo stesso Sean segnala in nota che in seguito si conoscono le vite, per esempio, la vie di Dusseline di Dignes, scritta probabilmente da Philippe de Porcelet, nel 1297, una vie di Beatrice d'Ornacieux, di Margherita Duan, all'inizio del XIV secolo, e poi una più conosciuta vie de Saint-Colette de Corby de Perrine de La Roche, del 1471. Anche in Italia conosciamo fenomeni analoghi, proprio negli stessi secoli. Penso alla prima vita di Rosa da Viterbo, tanto cara a Eleonora Rava, che tutti riteniamo scritta da una donna, ma penso anche alla seconda vita in miracoli della beata Margherita Colonna, scritta da Stefania, monaca di San Silvestro Incapite. Due testi, ambedue del XIII secolo, ma viene voglia di allargarsi fino a Illuminata Bemba, lo specchio di illuminazione che contiene la straordinaria vita di Caterina Vigri, tanto amata invece dalla professoressa Zarri. Io credo, ma forse la professoressa può dire meglio di me, che il tema delle donne agiografie di altre donne non sia stato ancora sufficientemente studiato. Mi pare che, pur trattandosi di testi che naturalmente rispettano i canoni tipici del genere agiografico, sono comunque testi con alcune caratteristiche specifiche, comuni, che potrebbero essere ulteriormente indagate. Quella di Agnese d'Arcourt è una vita straordinaria, anche perché è arricchita dai ricordi personali della scrivente. Vorrei ricordare un passaggio centrale del testo, il numero 24. Io, su Agnese di Arcourt, le chiesi «Signora, ditemi per Dio, per favore, perché avete dato questo nome alla vostra abbazia?» Lei ha risposto «Perché non ho mai sentito dire che qualcuno l'abbia fatto prima. Della qualcosa sono sorpresa, perché mi sembra che sia stato lasciato il nome più degno e migliore che si possa prendere, poiché è il nome con cui nostro Signore scelse la Madonna per essere sua madre. Ecco perché l'ho preso per darlo alla mia casa». Isabella, rispondendo ad Agnese, fa riferimento a un versetto del Magnificat, l'inno che, come sappiamo, l'Evangelista Luca pone sulle labbra di Maria subito dopo l'annunciazione, la visitazione. «L'anima mia magnifica è il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Il versetto era così famoso che non c'era nemmeno bisogno di citarlo esplicitamente nella vita di Isabella. Isabella voleva che l'abbazia avesse il titolo dell'umiltà di Nostra Signora. Questa scelta racchiude il messaggio di tutta una vita, una principessa di sangue reale, sorella del re forse più potente della cristianità, che sceglie la strada difficile ed oscura dell'umiltà. Eppure, tanto Isabella come Agnese non potevano non associare quel versetto evangelico alla sua immediata continuazione. «Ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Maria, la più umile tra le donne, era stata scelta per divenire madre del Salvatore. Isabella, scegliendo per sé e per le sue compagne il titolo dell'umiltà di Maria, intendeva anche preparare la gloria futura delle sorelle minori. Sarebbe lungo ricordare tanti episodi narrati dalla vita di Agnese. Ne recito ancora uno per concludere, così per darvi un po' il tono di questo libro. Uno che merita citato, perché ci presenta la dimensione, per così dire, quotidiana dei rapporti tra Luigi, il futuro santo, e la sorella. Filando, aveva tessuto un copricapo con le sue mani. Il santo re Luigi, suo fratello, glielo chiese e la pregò molto gentilmente di donarglielo, dicendo che se lo sarebbe messo in testa la notte. Lei non volle darglielo. Come io, suo Aragnese di Arcur, che ero presente, ho sentito dalla sua bocca e con le mie orecchie. Rispose al re, dicendo, propongo che sia dato al nostro Signore, perché è il primo che io abbia mai filato. Lui la pregò e disse, sorella, vi prego di filarne un altro, perché io lo abbia. Lei rispose, lo farò volentieri, se ne filerò degli altri. E mandò segretamente questo copricapo a una povera donna, che era costretta a letto a causa della sua grande debolezza e che visitava fedelmente ogni giorno con doni tratti dalla sua tavola e con piatti speciali. Agnese, che del fatto è testimone oculare, segno evidente dell'intimità che godeva con la principessa prima ancora di entrare in monastero, racconta del re che desidera il berretto, il copricapo. Tra l'altro in francese antico è proprio couvre-chef, che in italiano esiste ancora copricapo, invece in francese moderno diventa berretto, perché non c'è più copricapo. Va bene, noi possiamo tradurre meglio. Il capricapo da notte filato dalla sorella. Ma Isabella aveva già pensato di darlo a una povera donna malata. La risposta da dal fratello, il re Luigi, è per certi versi sosprendente. Il berretto sarà donato a una persona più importante del re. Una povera donna, perché lei è immagine del Signore Gesù. L'aggiunta poi rivela un certo humor. Al re che aveva chiesto di riceverne almeno un altro, Isabella risponde «Je le veux bien, si j'en file plus. Lo farò volentieri, se ne filerò degli altri». Con quel «se», la principessa, per così dire, lascia in sospeso il fratello, o come dicono a Napoli, lo lascia appeso, nel senso che lo lascia anche un po' con il desiderio insicuro di essere soddisfato. Insomma, come avrete capito, è stato per me un vero piacere poter tradurre questi testi e spero che poterli leggere in lingua italiana possa essere un piacere anche per tutti voi. Per concludere, non posso che ricordare le parole di Jacques Dallarin a conclusione della sua prefazione Le più belle imprese sono storie d'amicizia e questa è una di quelle. Grazie.